Giorgia Meloni sta indicando le persone trans come un problema nell'affermazione delle donne e queste dichiarazioni mi preoccupano. È Gianmarco Negri, sindaco di Tromello, avvocato, persona transgender, a intervenire con un lungo post su Instagram in cui critica le affermazioni della Presidente del Consiglio. La chiama così al femminile contestando innanzitutto la scelta della Premier di farsi chiamare il Presidente imponendo la declinazione maschile. Una frase preoccupa in particolare Negri tra quelle pronunciate da Meloni. Oggi per essere donna si pretende che basti proclamarsi tale, nel frattempo si lavora a cancellarne il corpo, l'essenza, la differenza. Dietro a questa frase, secondo il sindaco di Tromello, c'è l'indicazione delle persone transgender come un problema, come coloro le quali ostacolerebbero in qualche modo l'affermazione delle donne. Da appartenente alla comunità transgender, Negri non ci sta a farsi definire un problema. Non abbiamo bisogno di questi attacchi, non abbiamo bisogno di essere additate come persone pericolose. La società stessa non ha bisogno di questi toni così aggressivi, così violenti. I problemi che deriverebbero dall'indicare le persone transgender come un ostacolo all'affermazione delle donne, secondo Negri, sarebbero di due tipi. Da una parte si crea un'ulteriore difficoltà alle persone con varianza di genere nel farsi comprendere da chi sta loro accanto. Dall'altra si finirebbe per dare una giustificazione a comportamenti discriminatori. Sono molto preoccupato delle dichiarazioni che sta rilasciando la nostra Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, perché ritengo che accendano una luce di pericolosità sulla comunità transgender immotivatamente in quanto esistono, come esistono tutte le persone con varianza di genere che non sono minimamente pericolose e non devono essere additate come tali perché altrimenti il rischio grande che io vedo è che queste posizioni possano legittimare degli atti di violenza. Negri conclude la sua riflessione affermando che, ricoprendo un ruolo istituzionale, Meloni dovrebbe difendere tutte le persone nei loro percorsi e nelle loro vite e non attaccarle e metterle in pericolo.